Buongiorno a tutti, anche quest'anno IOP ci propone un programma scientifico, un programma culturale estremamente interessante e ricco di contenuti. Nello specifico, a proposito del meeting mediterraneo che si terrà a Riccio nel 13 e 14 aprile, avremo tra l'altro anche la partecipazione dell'International College of Prostodontics e io avrò l'onore e il compito in questo evento di affrontare il tema del trattamento implantare del paziente completamente dentro. Sappiamo come questa sia una tematica estremamente complessa che richiede un'ottima collaborazione fra il chirurgo, il protesista e l'odonto tecnico e non può prescindere da specifiche valutazioni estetiche e funzionali. Il nostro obiettivo è ottenere un'ottima integrazione estetica e funzionale ma al tempo stesso risultati predecibili e mantenibili nel tempo. Affronteremo tutti questi aspetti a Riccione, vi aspetto numerosi. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!